Siamo pronti per il prossimo sketch di TAC, tutta un'altra comicità, chiamiamo on stage Miss Laura Salvai! Buonasera, buonasera, sono Laura Salvai, ad aprile ho compiuto 60 anni e subito hanno cominciato ad arrivarmi su Facebook e su Instagram delle messaggi pubblicitari del tipo, cerchiamo volontari per i nostri apparecchi acustici, ti meriti un'eccellente casa di riposo, trova un single della tua età cui piaci come sei, in carta pecorita. Ora vi dirò che devo sfatare un mito, cioè che l'algoritmo ci conosca meglio dei nostri migliori amici, non è vero. Chi mi conosce anche solo di sfuggita sa che ci sento benissimo, che non potrò mai permettermi una casa di riposo e che stare in coppia mi fa schifo. E comunque compiere 60 anni è stato un trauma tremendo, sei anziana ma devi ancora aspettare 5 anni per avere lo sconto al cinema. Altro trauma, credi di essere in menopausa, la mia genocologa mi ha detto che sono in post-menopausa. Uno dei sintomi tipici della post-menopausa è che prima o poi ti iscrivi a un corso di tango. Altri sintomi sono perdita di capelli, pancetta, barbetta e secchezza vaginale. Praticamente diventi pavarotti con la f*** di cemento. Su internet ci sono migliaia di articoli. Se andate a vedere su internet trovate migliaia di articoli dedicati alla post-menopausa, ma tutti si possono riassumere con un'unica parola, ammazzati. Anche per la scienza se non sei più scopabile è la fine. E dopo averti detto che fai schifo, questi articoli cercano di consolarti dicendoti dai, voglio ancora bene per stirare. Ecco, io sono qui stasera per portarvi un altro punto di vista, una nota di speranza. Questi capelli anche se tinti sono miei. Peso 55 kg, la barba l'ho fatta stamattina. La mia f*** è un acquapark. Ma soprattutto voglio dirvi che in questi ultimi anni io ho fatto le cose più intelligenti della mia vita. Primo, ho ripreso a viaggiare da sola. I figli sono grandi, sono separata. Io ho ripreso il mio zaino e ho cominciato di nuovo a viaggiare in giro per il mondo. Io viaggio in modo molto spartano, con i mezzi locali, dormo nelle camerate degli ostelli e ovviamente sono sempre la più vecchia. Ed è molto interessante osservare la reazione degli altri. In Sud America mi dicono che sono bien conservada. E credono pure di farmi un complimento. In Malawi mi chiamano Madame, pomposo. Ma sempre meglio che in Tanzania dove mi chiamano Bibi, nonna. La seconda cosa intelligente che ho fatto in post-menopausa è stato non iscrivermi a un corso di tango. Mi sono iscritta a kickboxing. Dopo una settimana un ragazzino mi ha fatto un occhio nero. Al pronto soccorso mi hanno detto, signora come se l'è fatto? A kickboxing? Signora ci dica la verità, siamo qui per aiutarla. Ho detto che era stato il mio ex marito. È ancora in prigione. La terza cosa intelligente che ho fatto in post-menopausa è stata non iscrivermi a Tinder. Io, anzi, in realtà, quando un uomo mi si avvicina, io vado nel panico e comincio a pensare, oddio, chissà che cosa vorrà. Speriamo che voglia andare al Museo Egizio. perché io non lo so se mi farebbe più effetto vedere il suo corpo nudo o far vedere il mio. E che, non lo so, non vorrei che si vedesse la parte del mio corpo da cui si capisce di che colore sarebbero i miei capelli se non li tingessi. Sì, però, vedete, con il tempo mi sono anche rassicurata perché a questa età, se un uomo ti invita a cena a casa sua, vuole davvero leggerti le sue poesie. Grazie! Grazie!